Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di oggi parliamo di una delle opere più note di tutta la letteratura italiana, sicuramente una delle opere letterarie più importanti di tutti i tempi. Si tratta del Canzoniere di Petrarca. Il rilievo di quest'opera è dovuto non solo alla bellezza, alla perfezione dell'opera in sé, ma anche all'influenza che ha avuto sui posteri, quindi sui poeti delle epoche successive e ovviamente anche sui lettori. Quest'opera è meno nota con il suo nome originale, rerum volgarium fragmenta, ossia letteralmente frammenti di cose volgari, quindi frammenti di componimenti in lingua volgare. Quest'opera consta di 366 componimenti poetici e si tratta per lo più di sonetti, quindi 317 sono i sonetti, a cui si affiancano 29 canzoni, 9 sestine, 7 ballate e 4 madrigali. Quindi vediamo che il sonetto è proprio la forma prediletta da Petrarca. Il sonetto vi ricordo un componimento breve di 14 versi e indecasillabi che sono divisi in due gruppi, due quartine e due terzine. Si tratta per quanto concerne il canzoniere di un'opera che è stata scritta nel corso di molti anni e che l'autore ha riordinato dedicando a questa attività diciamo la quasi totalità della sua esperienza poetica. Quindi questi scritti sono databili a partire dal 1342 sino alla morte dell'autore avvenuta nel 1374. Quindi per più di 30 anni Francesco Petrarca ha lavorato a quest'opera. Si tratta quindi di un'elaborazione molto lunga che dimostra la grande attenzione che il poeta aveva, la grande affezione anche proprio nei confronti di quest'opera che è una sorta di diario intimo. Il tema prevalente è quello amoroso e quindi è un po' come se fosse la storia dell'amore non ricambiato per Laura e a questo tema si affiancano anche poesie di argomento morale, politico o religioso. Ecco dicevo prima che quest'opera può essere letta come una storia d'amore non ricambiata ma non dobbiamo pensare ad una storia narrata con un inizio e una fine, è proprio una sorta di diario interiore. Fra l'altro il poeta ha organizzato la raccolta dividendola in due grandi sezioni rime in vita e rime in morte di Laura. Quindi pur non essendo una storia nel senso classico del termine ma diciamo che c'è questa cesura fondamentale, questa divisione fra quello che è accaduto prima della morte di questa donna e quello che è accaduto dopo. Anche se sappiamo per certo che alcune delle rime in vita sono state composte quando questa donna era già scomparsa e alcune delle rime in morte sono state composte prima. Probabilmente Laura è scomparsa nel corso della peste del 1348. Abbiamo già detto parlando della biografia dell'autore che si tratta di una donna che il poeta ha conosciuto da giovane nel 1327 quindi quando aveva 23 anni e si tratta della donna di cui sarà innamorato per tutta la vita. Quindi da un certo punto di vista Laura è per Petrarca quello che Beatrice è per Dante nel senso che si tratta della donna che proprio ispira la sua poesia. Però c'è una visione differente dell'amore nei due autori cioè mentre Beatrice costituisce per Dante una diciamo una via per giungere a Dio quindi per elevare l'animo del poeta nel caso di Petrarca l'amore viene visto sicuramente come un sentimento nobile e molto raffinato ma esclusivamente terreno quindi privato di quelli che possono essere significati di tipo religioso spirituale e anzi innescando nell'autore una dinamica abbastanza tormentata. Non dobbiamo dimenticare che Petrarca aveva preso i voti quindi era stato anche assunto come cappellano dal cardinale Giovanni Colonna e aveva quindi intrapreso la carriera ecclesiastica e vive per tutta la vita l'amore per questa donna non svincolato da un certo senso di colpa di fondo quindi come un amore che lo allontana dai valori spirituali e della salvezza dell'anima quindi mettendolo di fronte a quella che è la consapevolezza della fragilità della natura umana che fatica a resistere all'amore. Questo contrasto appunto interiore fra l'aspirazione all'eternità e i desideri terreni attraversa tutta la parabola artistica di Petrarca e fa di lui un poeta sicuramente di un'epoca di transizione quindi da quella che era la visione più ancorata al medioevo e anche la visione dell'universo teocentrica che aveva Dante verso invece quella che sarà la visione tipica dell'umanesimo quindi antropocentrica con tutte anche le contraddizioni che questo comportava. Ecco il valore culturale di quest'opera è sicuramente grandissimo il centro proprio dell'interesse poetico di Petrarca è il suo stesso essere quindi l'amore ma anche quello che l'amore provoca nella condizione dell'essere umano quindi appunto in una prospettiva nuova che riflette proprio le inquietudini della sua epoca. Fra l'altro Petrarca anticipa l'umanesimo anche in altri aspetti ad esempio l'amore per i classici, la riscoperta dei poeti antichi, la particolare considerazione della lingua latina come lingua elevata, come lingua di riferimento. La ricerca anche della perfezione formale è un'altra delle caratteristiche dello stile di Petrarca quindi nelle opere in latino prende a modello i grandi autori dell'antichità mentre nella produzione volgare elabora un proprio stile originale ma sempre improntato ad una grande raffinatezza di fondo quindi basandosi da un lato sull'utilizzo di vocaboli semplici e musicali che suonino bene all'orecchio dal significato profondo ma collocati all'interno di strutture sintattiche che hanno una grande armonia, un grande equilibrio di fondo. Proprio per questo motivo la produzione di Petrarca sarà un riferimento per i secoli a venire e il cosiddetto petrarchismo è proprio quel fenomeno di imitazione dello stile di Petrarca quindi di ricerca nella lingua, nei temi e anche proprio nello stile di quello che era stata la grandezza di questo poeta del Trecento. La produzione quindi di Petrarca possiamo dire che diventa un modello di eleganza e di naturalezza espressiva per i poeti italiani fino all'Ottocento. Il linguaggio di Petrarca è raffinato e limpido musicale scorrevole ma questa sua naturalezza, questa sua scorrevolezza sono proprio il frutto di un lavoro costante di revisione, di selezione sulla propria opera tesa proprio a ricercare la perfezione formale. Anche da un punto di vista linguistico a proposito di Petrarca si parla spesso di unilinguismo, proprio di uniformità linguistica e viene contrapposto a quello che invece è il plurilinguismo di Dante che nella commedia adotta delle espressioni anche d'uso comune quando addirittura non colorite o triviali a fianco di termini dotti. Quindi si tratta proprio di due figure molto diverse entrambi grandissimi letterati e sicuramente complementari fra di loro quindi l'apporto di entrambi è stato fondamentale nell'andare a costituire la grandezza della letteratura del Trecento. Per questa lezione abbiamo terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere gli aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima!